Hello there! Un video velocissimo per annunciarvi una cosa bellissima che già alcune di voi hanno intuito, hanno saputo perché l'ho detto sui vari social network faremo finalmente un altro incontro di nuovo a Milano quindi l'ultimo l'abbiamo fatto a settembre ed ora lo rifacciamo un incontro che avverrà proprio questa domenica domenica 21 e faremo una cosa più particolare quindi non sarà all'aria aperta, non sarà così in piazza Duomo ma sarà all'interno di un negozio un negozio di videogames che si trova in zona 5 giornate a Milano raggiungibile poi con il tram e tutto il resto comunque per tutti i vari dettagli più precisi della strada e di come arrivarci qui sotto nella descrizione vi lascio tutto tra l'altro ovviamente c'è il fantastico evento Facebook come sempre quindi andate su Facebook per rimanere aggiornate su tutto quanto sulle varie informazioni precisissime sul luogo comunque appunto è in zona 5 giornate per chi è di Milano lo sa per chi non è di Milano ci sarà comunque la cartina su Google Maps ci si riesce ad arrivare sicuramente e praticamente la cosa sarà strutturata in modo diverso perché comunque essendo al chiuso ci danno appunto questa sala dove poter stare io e le altre youtuber ovviamente ci saranno tutte le altre youtuber che sapete sempre, conoscete benissimo comunque vi lascio qui sotto ovviamente l'elenco di tutte le youtuber che saranno presenti e ci sarà anche Brian che non avete ancora visto durante i nostri incontri ma è uno youtuber, è un ragazzo finalmente c'è anche un ragazzo con noi che appunto il suo canale si chiama Il Blog di Brian e anche lui ovviamente è linkato qui sotto l'incontro durerà appunto, è questa domenica durerà dalle 3 di pomeriggio alle 7 di pomeriggio, alle 7 di sera ovviamente se dovete andare via prima, se dovete arrivare un po' dopo potete fare quello che volete sappiate che all'interno di questa sala però ci possono stare 200 persone quindi mi raccomando le persone che vengono al di fuori della Lombardia ovviamente noi non obblighiamo nessuno a rimanere a casa ognuno può prendere la sua decisione però sappiate che nel 2015 faremo tante altre date in tante altre città d'Italia quindi non mettetevi per forza a rorganizzare all'ultimo momento se venite da Bologna, da Torino, dalla Sicilia perché fidatevi che comunque noi prima o poi verremo in tutte le città ovviamente se non siete proprio di Milano ma comunque voi volete venire fate ciò che volete però sappiate che appunto ci possono stare 200 persone quindi non vorremmo mai che qua magari qualcuno arrivasse da lontanissimo per poi magari entrare e non stare neanche tanto tempo quindi veramente non vi preoccupate magari lasciamo questa opportunità alle persone che stanno più vicine alla Lombardia come quando verremo a Bologna o verremo a Napoli ci sarà ovviamente la precedenza per le persone che saranno proprio di quel luogo poi durante la giornata ovviamente faremo cose che saranno foto saranno video, saranno chiacchiere tutte insieme perché ovviamente è un momento per incontrarci quindi ci potrete abbracciare fare tutto quello che volete è quello che proprio noi vogliamo cioè che veramente passiamo un pomeriggio insieme e ci sarà anche un momento essendo appunto in un posto chiuso abbiamo potuto organizzare anche una cosa diversa e quindi ci saranno dei momenti in cui noi parleremo con voi voi potrete farci delle domande quindi potremo parlare insieme le une con le altre e poi tra l'altro il posto ci darà questo negozio di videogiochi ci darà anche la possibilità ci metterà a disposizione dei giochi da tavolo della Hasbro così che magari se vogliamo dopo possiamo un po' giocarci cioè possiamo aumentare ancora di più la nostra conoscenza giocando insieme a questi giochi da tavolo ovviamente poi quando ci sarà il giorno stesso la domenica vi spiegheremo tutto come abbiamo organizzato le cose però sappiate che non è semplicemente un incontro ma vogliamo proprio interagire con voi faccia a faccia quindi spero che tanti di voi riusciranno a venire ovviamente qui sotto nella descrizione trovate tutti i dettagli andate sull'evento di Facebook se avete un profilo Facebook così potete mettere partecipa e noi vedremo più o meno quante persone riusciranno a venire vi ripeto per tutti i dettagli del luogo per esempio precisamente la via e tutto il resto sappiate che a Milano in zona 5 giornate questa domenica dalle 3 alle 7 e per la via e le varie indicazioni andate sull'evento Facebook o qui sotto nella descrizione e al più presto vi metteremo tutti i vari dettagli comunque appunto saremo presenti noi youtuber con anche Brian io ripeto per tutte le ragazze che non abitano in Lombardia che non sono vicino a Milano che verremo anche nelle vostre città e questa è una cosa sicura perché anche a noi piace tantissimo incontrare voi quindi verremo il 2015 sarà fantastico ma per ora appunto abbiamo deciso di farlo a Milano anche perché essendo la nostra città per noi è più facile organizzare anche le cose all'ultimo momento quindi mi raccomando io spero che siate felici di questa notizia e per chi ci potrà venire ci vediamo domenica ciao 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 ciao